E adesso abbiamo un gruppo molto strano perché le provenienze sono un casino praticamente, sto parlando degli Allaria, se venite dentro di dove siete perché è un po', è un po', so se sei cambiata rispetto all'ultima volta. Hai visto? Eh? Sì, ci siamo messi, ci siamo aggiustati per la serata. Ah, è una serata importante questa. Allora, mi racconti la cosa, di dove siete voi? Allora, noi ci siamo conosciuti ad Ortona perché siamo cresciuti ad Ortona. Dov'è Ortona? Ortona è in Abruzzo, è in provincia di Chieti e ci siamo conosciuti perché abbiamo avuto la fortuna di frequentare lo stesso ambiente musicale. Quindi poi siamo diventati amici e poi siamo diventati collaboratori musicali. e quindi Allaria perché lui si chiama Alberto, io mi chiamo Maria Francesca ed è venuto fuori questo nome che ci ha piaciuto e l'abbiamo tenuto. Ma è possibile che legga che qualcuno di voi, tu, abiti a Londra? Io abito a Londra, sì. E cosa fai a Londra? Faccio la waitress, faccio la cameriera. Ma suoni anche, canti anche. Stiamo, il mio progetto è questo e sta qui. Come faccio? E' vero, ci vorrebbe una puntata a parte, faccio una puntata a parte. Allora, faccio in questo modo, sto in Inghilterra fino a marzo, poi rientro, si lavora. L'obiettivo è non tornare più in Inghilterra, cioè avere un lavoro sufficiente da poter restare, ovviamente. Certo. E quindi mi muovo in questo modo. Lui è a Torino, io sono a Londra, quindi ci vediamo a Torino se serve a Torino, altrimenti ci vediamo a D'Ortona, in Abruzzo se serve a D'Ortona, con la speranza di riuscire a non doversi muovere più. Scusa, ti sembrava una domanda di quelle da gossip, ma è, raggiunge spontaneamente, ma state anche insieme? No, siamo amici. And that's it. And that's it, ecco, andate in inglese, ho capito. Ma come fai a conciliare un lavoro a Londra, un gruppo con uno di Torino, tu sai, e anche un eventuale amore? E' difficile, ma cosa è facile? Niente. Che cosa canti? Cantiamo, grazie. Due universi, stesso mondo. Due universi, uno a Torino e uno a Londra, stesso mondo. Loro sono Gialaria. Non c'è neanche un argomento che ci trovi un po' in accordo, siamo sempre poi gli opposti. Due universi, stesso mondo, non so neanche come siamo, arrivati fino a qui, torno sempre a casa a piedi, per pensare a che sarà. Oh, comunque mille cose, dove spesso non ci sei, ti racconto i miei progetti, tanto non ci credi mai per te. Tutto è regolare, che ti interessa prevedere, se alla fine della fiera vale il gioco o la candela. Ma la musica non vale, non è certo il giusto esempio. Sfido io a non fare pace, a cambiare il momento, cambia proprio tutto intorno, e cambi pure tu, e ricordo in un secondo, perché siamo ancora i tuoi. Io di facili entusiasmi, tu pratici programmi, che diresti se ti offrissi un biglietto per guardarti, sia di pure qui vicino. Guarda quanto sei legato, io mi sento a un palloncino, tu, ancora tu a questo stato, sì, lo so che ti sta bene, ecco poi che ci risiamo. Non potresti anche provare, a rischiare di sbagliare, molla quella scrivania, metti un po' di dubitare. Ma ci pensi che se hai torto, noi possiamo anche volare, noi potremo anche provare. E torno ancora a casa a piedi, per pensare a che sarà. Ma saremo sempre questo, due universi stesso mondo, due universi stesso mondo. E la musica si vale, forse è proprio il giusto esempio, sfido io a non fare pace, a cambiare in un momento, cambia proprio tutto intorno, e cambi pure tu, e ricordo in un secondo. Perché siamo ancora due. Don't worry Don't worry Belli, bravi, alla ria, complimenti, ciao, mi raccomando, tira avanti, tieni duro, ok? Alla ria!